Ora andremo a vedere insieme che cosa sono gli aggettivi qualificativi e qual è la loro posizione nella frase. Quelli che vedete nell'esempio sono aggettivi qualificativi. Mentre in italiano l'aggettivo può precedere, ma essere anche dopo il nome, in inglese invece l'aggettivo di solito precede il nome a cui si riferisce. In inglese gli aggettivi sono invariabili. Per esempio l'aggettivo black, indipendentemente dal numero del nome, che sia plurale o singolare, resta lo stesso. Quindi per dire un gatto nero o dei gatti neri, invece di dire nero o neri, in inglese black è lo stesso per tutte le persone e i numeri. Quindi ecco alcuni esempi di aggettivi inglesi, che sono e hanno la stessa forma per tutte le persone, come detto prima. Quindi non cambiano. Leggiamoli insieme. Full, empty, fat, thin, ricordatevi di mettere la lingua fra i denti quando pronunciate thin, long, short, clean, dirty, easy, difficult, cold, warm. Il superlativo assoluto degli aggettivi, che è in italiano che si forma inissimo, in inglese si traduce mettendo very davanti all'aggettivo. Bellissimo si direbbe very fine, mentre divertentissimo si direbbe very amusing. It's a very amusing film. È un film divertentissimo. Andiamo a vedere che cosa succede se mettiamo gli aggettivi che vedete al superlativo. Il superlativo relativo, il più bello, il più grande, il più piccolo, si traduce aggiungendo EST all'aggettivo che viene fatto precedere dall'articolo THE. Quindi avremo the tallest, the highest, the finest, the biggest, the smallest, the fattest. Attenzione però, se l'aggettivo è lungo, cioè formato da tre o più sillabe, il superlativo si ottiene mettendo THE MOST davanti all'aggettivo. Così avremo THE MOST intelligent, THE MOST interesting, THE MOST expensive, THE MOST beautiful. Quando confrontiamo persone, animali, oggetti tra di loro, mettendo in evidenza le loro qualità, possiamo trovarci davanti a questi casi. Se diciamo che un bambino e un altro sono intelligenti allo stesso modo, è un comparativo di eguaglianza. Se diciamo che un bambino è più intelligente dell'altro, è un comparativo di maggioranza. Se invece un bambino è meno intelligente dell'altro, è un comparativo di minoranza. Comparativo si traduce aggiungendo ER agli aggettivi monosillabici o bisillabici, oppure MORE agli aggettivi plurisillabici. I tre casi si traducono in questo modo. Attenzione però perché non è facile tradurre i comparativi, in quanto bisogna imparare alcune regole da applicare agli aggettivi considerati per la lunghezza delle loro sillabe. Quindi abbiamo detto che gli aggettivi sono invariabili, che si usano insieme a un nome e che di solito lo precedono. It's a nice day today. È una bella giornata oggi. Laura has brown eyes. Laura ha degli occhi marroni. Castani. Do you like an Italian food? Ti piace il cibo italiano? Per esempio, non potremmo dire It's a nice day today. Non potremmo neanche dire Laura has eyes brown. Quindi ricordatevi che l'aggettivo va messo di solito prima del nome. Se però, per esempio, nella frase abbiamo il verbo essere, l'aggettivo di solito va messo dopo il verbo essere. The weather is nice today. Il tempo è bello oggi. E non potremmo dire The weather nice is today. Oppure The flowers are beautiful. Non potremmo dire The flowers beautiful are. Questa è proprio una regola da rispettare. Quando in presenza di un verbo come essere c'è un aggettivo, di solito questo in italiano corrisponde al verbo avere. Are you cold? Hai freddo? I'm hungry. Ho fame. Vedete che il verbo essere inglese in questo caso corrisponde al verbo avere in italiano. I cinque verbi che vedete corrispondono ai cinque sensi in italiano. E spesso si riferiscono a diversi significati del verbo sembrare. Look, feel, sound, smell e taste. Andiamo a vedere degli esempi. Vedete come questi verbi si riferiscono a vari significati corrispondenti in italiano. Quindi look diventa sembri e feel rimane come sento. Dì sì. La bozzinaina è traducemi non raci. cemento. marketplace. Le vino dì me classese. Cybermiitude mobile. nosotros spermo inizuali diverse Pharaohi para quella strategia. Sì ora.